il museo del tulipano di amsterdam si trova nei pressi della casa museo dedicata ad anna frank quindi in zona abbastanza centrale è un piccolo museo che raccoglie la storia di questo fiore simbolo dell'olanda originario dell'asia centrale in particolare in una zona dell'himalaya fu molto amato dai sultani dell'impero ottomano ed in particolare da solimano il magnifico dal diciassettesimo secolo giunsi in olanda e da subito fu apprezzata in tutte le classi sociali e commerciata in tutto il mondo ancora oggi la produzione vanta centinaia di varietà ed è un prodotto esportato ovunque il museo si completa di una piccola bottega nella quale è possibile acquistare oltre che souvenir anche bulbi ma consiglio per questo la visita al mercato dei fiori che è veramente straordinario per quantità e varietà di possibilità d'acquisto grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.